Ci sono le reazioni dei partiti, facciamo il punto con Paola Cervelli in diretta da Montecitori. A te. Sì, la prima reazione oggi è stata quella di Matteo Salvini. La Lega infatti è promotrice insieme al partito radicale dei referendum sulla giustizia e c'è la soddisfazione del leader leghista che parla di una grande vittoria. Fratelli d'Italia ha fatto sapere che appoggerà due dei quesiti ammessi, quello sulla separazione delle carriere e quello sul CSM e c'è la soddisfazione anche di Forza Italia appunto sul fronte giustizia. Però ascoltiamo cosa ha detto Matteo Salvini nel punto stampa terminato poco fa. 5 su 6 che vi soddisfano. Diciamo che è una bellissima giornata per la democrazia, per l'Italia, non per la Lega, ma per gli italiani perché dopo 30 anni saranno gli italiani in primavera a poter votare dei referendum che fanno la prima, grande, unica riforma della giustizia. Nel centro-sinistra parla di una buona notizia Italia Viva. Ascoltiamo invece che cosa hanno detto Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle, e Simona Malpezzi, capogruppo del PD in Senato. Il Movimento appoggerà il referendum sulla giustizia? I quesiti referendari offrono nel loro complesso, quelli sulla giustizia, una visione parziale e sicuramente sono inidonei a migliorare il servizio, a rendere più efficiente e più equo il servizio della giustizia. È per questo che siamo orientati a respingere i quesiti referendari. Qual è la posizione del PD sui referendum sulla giustizia? Ma intanto poi noi discuteremo, faremo insieme le nostre scelte. Di sicuro riconosciamo che lo strumento del referendum sia importantissimo, ma sappiamo anche che in questo momento particolare la centralità del Parlamento deve essere al primo posto per portare a casa a realizzare delle riforme che sono anche strategiche per l'attuazione del PNRR. Quanto al quesito sulla cannabis c'è la delusione naturalmente dei promotori mentre parla di una vittoria a Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni. Sul fine vita intanto il presidente della Camera FICO ha sollecitato il Parlamento a legiferare e qui a Montecitorio domani in aula si comincerà a votare sulla proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito. A voi. Visita del Premier Draghi stamattina ai laboratori del Grazie. Grazie a tutti.